ciao ragazzi oggi siamo qua con la mia webcam a giocare a fortnite con le mani però la prossima volta giocherò col controller ma oggi non posso andare a prendere il controller ecco 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 ah ecco è partito fortnite allora vediamo un pò wow se sto guardando c'era che non guardo qui ma guardo qui qui perché c'è qua lo schermo e qui c'è la web qui c'è la webcam qui qui c'è la webcam ho riempito un giga devo disinstallare qualcosa disinstalliamo miracolos alla prossima giornata devo chiamarci a tutti alessio ciao a tutti che stai chiedendo di te amole ciao a te alessio alessio arriva allora caissà nel microfone che sono stati un minuto di più perché hanno già stato così inoltre vai con l'assistente buongiorno buon poveri buonanotte ragazzi sono sotto su ecco devo entrare così ecco ragazzi comunque allora sì ho il pass battaglia perché vuoi essere il mio account principale sì 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 Grazie. Un ciclo elegante. Andiamo a fare una squadra. Lo metto di qua perché di qua non è che c'è tanta roba. Lo metto di qua. Levo e levo e levo e levo. Ovviamente non costruirò perché me. Ma è la prima cosa costruire col controller. Ovviamente scherzo, sì, sono abbastanza forte come femmina, però... Allora, per chi sta mangiando con noi? Prego, si impara una foto e si va a mettere nella storia di Instagram. Sì, qua. Dobbiamo metterci un'anstal. Cosa, cosa... Amo questa live. Molto così. Io mangio a casa. Ok, ci sta. Io mangio in live. No, come che la gachi mi potenziale. Mi potenziale a casa. Mi potenziale a casa. Io mangio... Caricamento. 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 Grazie a tutti. 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 Ma che amico di me... Grazie a tutti. 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 Buon inizio di settimana Santa. Grazie a tutti.